Non a caso Gian Claudio Bressa che interverrà sulle parti più di dettaglio deve aiutarci a capire se siamo vicini su questi punti che sono fondanti altrimenti diventa complicato andare poi a discutere dei dettagli. Alcune delle cose che avete detto sicuramente anche nella vostra prima risposta mi riferisco all'immunità, è un tema sul quale siamo pronti a confrontarci. Naturalmente però oserei dire che se non sciogliamo prima questi punti diventa anche complicato farci capire all'esterno perché noi non siamo venuti qui a lanciare slogan. Questa è la parte della comunicazione che non ci interessa è la parte dello streaming che non ci appartiene. A noi interessa in questo momento fare riforme perché mentre noi stiamo qui discutendo...